Questo movimento contemporaneo è diretto, è normale. In questo momento sta in cui vengo completamente alla sua gravura, tutti voi che siete venuti così numerosi. Momma? Mamma, mamma. Mamma, mamma. Mamma, mamma. Mamma, mamma. Mamma, mamma. Ricordiamo il proprietario più natale di questo elicoporio, consenso vicino da 2 spioli, costi gliele. No, appena avremo il nome del pilota lo comunicheremo. Comunque è della flotta Dino Balde di Boglietto. Sì, zona Boglietto. Ricordiamo questa giornata all'Avio Superfica Sizzana, Delta Club i Corvi. Benvenuti alla festa del volo numero 16, ma è una storia che comincia dal 1981 dal Delta Club i Corvi. ora c'è una scuola di volo Pegasus.